L'innovazione è da sempre un fattore determinante per la competitività. Può costituire uno dei principali elementi di differenziazione per le aziende e in un'economia globalizzata come quella attuale, permette di affrontare le diversità e specificità che caratterizzano i singoli mercati con cui ogni azienda si confronta. Nel corso del 2013, Eurapo si è resa protagonista di un passaggio molto importante. La realizzazione, in collaborazione con l'Università di Padova, dei nuovissimi laboratori tecnici, nel rigoroso rispetto delle normative di riferimento e degli standard di mercato Eurovent, perseguendo i seguenti obiettivi. Differenziare i prodotti offerti attraverso la continua e costante ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche innovative che seguano o anticipino le evoluzioni dei mercati. Migliorare qualità, efficienza, prestazioni, sicurezza, affidabilità dei propri prodotti. Garantire le prestazioni dei prodotti offerti attraverso una verifica oggettiva dei dati di prestazione. Migliorare l'assistenza tecnica offerta ai propri clienti, fornendo soluzioni precise, affidabili e personalizzate con tempi di risposta sempre più brevi. Consolidare la propria presenza in un mercato sempre più competitivo. Intensificare la collaborazione tecnica e progettuale con i propri partner commerciali e industriali. I laboratori, che si estendono su una superficie di oltre 400 metri quadrati, sono attrezzati per la misurazione delle prestazioni acustiche, aerauliche e termiche di tutti i prodotti EURAPO, canalizzati e non, e sono caratterizzati da una camera climatica per effettuare test di resa termica e frigorifera, dimensionata per poter testare macchine con rese comprese tra 0,5 kW e 40 kW in riscaldamento, condizioni di riferimento 20 gradi centigradi 50% di umidità relativa, e rese da 0,5 kW a 30 kW in raffreddamento, condizioni di riferimento 27 gradi centigradi 48% di umidità relativa. È realizzata in conformità alla norma EN 1397-2001 e rispetto agli standard Eurovent 6-3, metodi di prova per ventilconvettori, ed Eurovent 6-11, metodi di prova per unità canalizzate. Due tunnel aeraulici, uno tradizionale e uno entalpico, dimensionati per garantire una corretta misura di portate d'aria da 100 m3 all'ora a 6.000 m3 all'ora. I tunnel sono conformi alle normative ISO 5801-2007, il precedente UNI 10.531 e ISO 5.221 e rispettano gli standard Eurovent 6-3, metodi di prova per ventilconvettori, ed Eurovent 6-10, metodi di prova per unità canalizzate. Due camere riverberanti, che permettono di misurare livelli di potenza sonora di apparati con bassi livelli di rumorosità, dell'intervallo di frequenze compreso tra 100 Hz e 10.000 Hz, in conformità alle norme UNI-EN ISO 3740-2002, UNI-EN ISO 3741-2010 e UNI-EN ISO 5135-2003. Ciascuna camera rispetta gli standard Eurovent 8-2, test acustici per ventilconvettori. Le due camere sono collegate tra loro per permettere lo svolgimento di misure acustiche con sistemi aeraulici canalizzati, in conformità agli standard Eurovent 8-12. I laboratori EURAPO rappresentano lo stato dell'arte e sono caratterizzati da soluzioni tecnologiche che li rendono unici in Italia. Ricerca, sviluppo e innovazione diventano con i nuovi laboratori tecnici fortemente e sempre più parte integrante della mission aziendale EURAPO per perseguire il fine del miglioramento continuo. Grazie a tutti!